Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul nostro canale, voglio provare a portare Palworld in video perché abbiamo provato a fare una live ieri sera da un'oretta e mezza però non l'avevo pubblicizzata bene quindi non eravamo in tantissimi e ho deciso di rifare un bel primo video di Palworld in questo caso spiegando anche cosa fare agli inizi, quindi andremo effettivamente a spiegare un pochino qual è la cosa migliore quale sono i palzi iniziali da utilizzare almeno nella prima fase di gioco, dove andare a costruire la base nella maniera più velocemente possibile e quindi andiamo a vedere insieme oggi questo Palworld, ok? Ariomni le like, condividete i video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate hashtag a Palworld qua sotto il momento per ricevere un pochino e iniziamo la nostra partita, ovviamente avevo fatto dei test, andiamo a crearci Morduglandia 3, ok? tanto le altre penso che finiranno molto male, Morduglandia, ok? 3 e andiamo immediatamente a selezionare, intanto se è multiplayer sicuramente lo metterò così magari qualcuno può entrare poi l'ielo di difficoltà lo teniamo normale, confermiamo e proseguiamo direttamente con il gioco andremo per prima cosa ovviamente a creare il nostro personaggino lo chiamiamo Mordug, così rimaniamo sempre per noi, possiamo mettere anche un personaggio casuale ce lo genera in maniera assurda, brutta, strana, veramente ambigua vediamo un po' se ci capita qualcosa di particolare possiamo fare questo? ok, questo sarà il mio orrendo personaggio la cosa più brutta che ho mai visto, sinceramente, vai ok, iniziamo e andiamo direttamente in gioco forse sono un po' grandicello, mi dovrei un po' ridurre le dimensioni scena stupenda iniziale mamma mia quanto so brutto! è orrendo quel coso però ci sta ci sta tutto per questa serie ok, una sorta di tablet ricorda molto la scena iniziale di qualche gioco della Nintendo non vorrei fare nomi sembra una Switch palese ok, salvataggio ovviamente iniziamo in questo mondo molto particolare colline del vento degli inizi perfetto ovviamente le prime cose da fare sono raccogliere risorse quindi andremo a raccogliere intanto i pal stupendi se non l'avete ancora visti la pecorella che è l'ambal poi ci sta il gattino molto interessante che è cattiva che però è molto utile allora la prima cosa da fare è raccogliere roba concentratevi più che altro sul raccogliere per terra legno, pietra e simili per costruire la prima robina non pensate subito ad andare a prendere risorse direttamente da alberi e simili quindi raccolgo un po' di robina e ci facciamo il nostro bellissimo tavolo da costruzione per iniziare allora si sale di livello in modo velocissimo specialmente all'inizio ecco perché vi dico raccogliete prima la robina perché raccogliendola salite di livello intanto salutiamo cattiva che ci guarda molto male ok, prendo qualche altro alberello intanto possiamo fare le varie cosine delle missioni possiamo andare a vedere che abbiamo un menu delle tecnologie da evolvere e da livellare sicuramente andremo a prendere il nostro box per i PAL e i banchi vari da riparazione e tanto altro intanto abbiamo pure già gli oggettini da fare per la palla importantissima che serve per catturare i vari palla a giro ok, la base della struttura questa è tutta roba che possiamo già sbloccare sinceramente senza alcun problema ok, apri il menu desk e guarda il menu sopravvivenza abbiamo anche un manuale se siete interessati per andare a vedere come funziona il PAL come funziona l'interfaccia ottiene oggetti tutto in italiano quindi non si può sbagliare con il B possiamo fare appunto l'edificazione possiamo fare il nostro banco da lavoro che è la cosa per cui dobbiamo puntare immediatamente perché dobbiamo creare le nostre sfere PAL per prendere i nostri PAL più importanti allora diciamo che per la prima tavola da edificazione non ci interessa la posizione possiamo metterla a 12 pare con F andiamo a fare la produzione effettiva di questo oggetto che ci servirà per in pratica farmare e costruire le prime cose compresa la sfera PAL frammento di pallium e... di pallium scusate legno e pietra vado a raccogliere questa robina così faccio le sfere vi faccio vedere pure dove raccoglierla al meglio allora ragazzi sono andato a prendere un po' di robina cominciamo a costruirci intanto piccone di pietra che è importantissimo perché ci serve per andare a prendere appunto queste schegge che servono per fare la sfera PAL ho raccolto per terra una sfera PAL perché si possono trovare anche per terra semplicemente possiamo andare con la rotella una volta preso l'oggetto ovviamente l'avevo lasciato lì a picconare se andiamo a picconare queste pietre ci dà appunto la pietra ogni tanto della schegge il problema è che aumentiamo anche il peso di quello che possiamo trasportare ecco qua frammento di pallium perfetto e serve per fare la sfera però noi possiamo anche andare più giù da questa parte quel PAL non lo guardare perché non lo avrai adesso e possiamo andare a cercare delle pietre specifiche magari è meglio andare dall'altro lato però un'altra cosa che vi consiglio di fare nel frattempo che formate è raccogliere queste bacche perché sono un cibo iniziale molto comodo visto che c'è della fame servono anche per recuperare vita intanto vi fanno livellare perché sono cose da raccogliere quindi molto importante se non erro da questa parte ci dovrebbe stare anche una zona dove ci sono dei minerali più specifici che ci danno essenzialmente solo la scheggia e ci dovrebbe stare anche un ponte per scendere però non mi ricordo da che parte allora qui c'erano le scalette ecco non me le ero accorto per niente sono proprio queste le scalette che dovete prendere che vi porteranno qui giù a fianco al ponte e ci sono questi minerali che servono per prendere direttamente le schegge per fare le sfere se non erro qua sotto ci dovrebbe essere anche un passaggio interessante per prendere una prima cassettina infatti guardate quanti frammenti stiamo facendo allora qua in quest'angoletto ci dovrebbe stare una cassa eccola qui questa è una delle prime casse che prendete c'è pure un pezzo per la storia se non erro allora qua ci dà denaro pane e chiave di rame che sicuramente servirà per aprire qualche parte prendi ha raccolto il diario del naufrago giorno 2 interessante e qui c'è un'altra pietrozza di quelle per fare le schegge così andiamo a fare le sfere pal ne abbiamo già una ripeto perché si possono raccogliere anche in giro sono rare ma si possono trovare ok ci prendiamo questo pal di un mettono immediatamente al banco da lavoro a fare le nostre sfere allora siamo al nostro banco sfere pal io le faccio il più possibile possiamo fare solo due ammazza che tristezza ok realizziamo le sfere pal niente male non badate immediatamente alle quest perché potete pensarci anche tranquillamente dopo allora adesso ne possiamo andare ad indebolire un pal non so se posso fare l'arma sembra di no casomai è meno col piccone per ora per esempio questa pecorella perché almeno una ce l'abbiamo e possiamo lanciare la sfera direttamente con F mi ricordo con Q ora vediamo eccola qua lancia con Q allora gli abbassiamo un po' la vita a questa pecorella con Q la lanciamo e le sopra ci dice la probabilità di cattura perfetto abbiamo preso il primo lambal con la E la andiamo a tirare fuori può essere utilizzato come scudo tenendo premuto lui si avvicinerà a noi e lo prenderemo in mano come scudo protettivo soffice una delle abilità di questi omini ok possiamo fare F premuto per annullare quindi ritorna a essere un normale lambal e possiamo da ESC andare direttamente nei palli squadra e vedere le statistiche in questo caso possiamo vedere il livello l'abilità le abilità di attacco quindi rotolamento in questo caso idrorepellente riduzione del danno di attributo acqua interessante le varie statistiche e anche l'attività che possono fare lavoro manuale trasporto allevamento perché voi potete prendere queste bestioline qui e magari se ferma un attimo non si sta a fermare oh perché non te fermi ci sta di perché ci sta a distanza ma non ho capito perché scappi va bene non mi ricordo ora il pulsante per recuperarlo però si può recuperare ecco ho sprecato una bellissima balls in pratica si possono raccogliere questi omini e dargli appunto una posizione nella base per cui devono fare determinati lavori va bene allora proseguiamo la nostra avventura e andiamo a trovare il pal migliore che ci serve che è cattiva ma prima devo rifare un po' di sfere allora la prima cosa che vi consiglio è di scendere da quella struttura e venire qua sotto in questo spiazzo che è molto comodo per costruire la prima base la costruite da questo pezzettino e avete un sacco di spazio frontale per le altre strutture in seguito e da queste parti a parte raccogliere un sacco di robina che vi fa salire di livello a voi e al vostro diciamo pal potete anche andare a catturare i cattiva che ci serviranno appunto per la base allora intanto continuo a formare un attimino mi creo la strutturina qua per costruire e facciamo assolutamente un po' di sfere e adesso si va a cercare di catturare quel gattiva o cattiva in realtà meniamo gli un po' non è un problema se prendiamo pure qualche danno tanto sono gli iniziali no l'ammazzaro per sbaglio è partito un colpo di più non so perché non doveva partire quel colpo ma è partito allora trovo un altro gatto bravo Morduk facciamo subito figuracce ah un'altra cosa importante di questa zona che è qui in alto a destra proprio di quella spiazza dove stavamo c'è un'altra cassettina che dà denaro pietra pane e anima di pall piccola interessante allora non so perché ma da questo lato ho trovato una statuetta statua di leaf munker accogli stati di infunda offrire la statua del potere per migliorare la capacità di cattura del pall del giocatore interessante questa cosa quindi anche le statue servono per fare dei potenziamenti ok ragazzi sono riuscito a trovare un altro gattiva perché quello precedente era un attimo scappato lo prendiamo a cazzotti anzi io userei pure il piccone perché se no mi mena male sto cattiva devo stare attenti a quanti colpi gli do perfetto proviamo a prenderlo ok questo ripeto è uno dei primi palli iniziali importanti perché va anche a minare avete capito bene intanto sono a livello 4 e con tutta la roba che ho raccolto anche in giro anche la pecorella è salita il gattino è a livello 3 quindi direi di andare giù a cominciare a posizionare un po' la base allora qua giù ci sono altri cattivi ora cerco di prenderne almeno uno vediamo un po' ok abbassiamolo per bene cercando di non ucciderlo vai con la sfera perfetto adesso vi spiego anche perché ne sto prendendo di più ora vedrete l'utilità di questo pallo iniziale perfetto ne abbiamo due vai vediamo un po' se c'è un'altra non mi ricordo se c'è un'altra sfera penso di sì ok da un po' se la chiappiamo probabilità 100% sto riempendo la squadra di questi pokemon iniziali per un motivo perché se andiamo su esc e andiamo sui nostri palli squadra vedrete una cosa molto interessante che a parte che fanno lavoro manuale raccolta attività mineraria e trasporto quindi sono fantastici per iniziare hanno anche altre abilità quando è in squadra cattiva si occupa di portare i bagagli aumentando il peso massimo che puoi trasportare infatti anche un'altra cosa importante che non vi avevo detto prima intanto abbiamo pure dell'appetito quindi è il caso di mangiare per la prima volta in questo mondo possiamo andare a utilizzare le bacche ok che sono un ottimo cibo iniziale ok possiamo dare anche il cibo a loro per recuperargli della vita perfetto e sono molto contenti le bacche si trovano facilmente all'inizio allora siamo di notte quindi conviene tornare indietro verso la base dove vogliamo per alzare la base a farci almeno una torcetta perché di notte può fare anche freddo quindi conviene effettivamente farcene almeno una per sicurezza e poi andremo a fare assolutamente la struttura box per i pall ci ho messo un po' di tempo effettivamente a fare tutte le strutture è già notte forse non doveva passare tutto questo tempo ma succede anche questo ok abbiamo la nostra torcetta con la torcia si può menare anche ai mostri e si può dare fuoco ok quindi assolutamente tranquilli sono cose che possono succedere allora banco di edificazione come vedete possiamo spostarci per esempio a fare un bel box di pall però io la cosa che vi consiglierei è di cominciare a fare un po' di legna e a costruire la struttura che è molto semplice sinceramente come cosa quindi vi mettete magari qui a bordo così avete tutto lo spazio possibile frontale e fate una bella piattaforma 4x4 adesso io mi costruisco la casa e vi faccio vedere come la faccio allora per essere un po' più produttivi anche nel raccogliere la legna ci facciamo una bella scetta di pietra molto bellauce e andiamo a prendere un po' di legna perché ovviamente per fare la casa mi ci vuole tanta legna ovviamente ho fatto solo due piattaforme pensate quanto ce ne vuole e voilà ecco la mia bellissima casona gigantesca il primo piano con ovviamente le finestre su ogni lato il secondo piano per tenerci un po' più al sicuro infatti penso che il letto lo metteremo qua sopra ovviamente per fare il letto andiamo a prendere i materiali che ci servono lo mettiamo là al centro perché il letto fa passare effettivamente la notte più velocemente allora per poter costruire il letto adesso vediamo come fare intanto per sbaglio ho tirato una martellata dove non dovevo allora produzione pal intanto un bel box per i pal ce lo andiamo a piazzare lo giriamo lo mettiamo con la piattaforma da questo lato più vicina possibile alla nostra base e ci riusciamo perché non deve avere neanche ostacoli di mezzo quindi è un bel problema a parte che mo' c'è sta ergattaccio in mezzo alle scatoli a un po' non so perché non riesco eccola qua allora più di qua non ci posso andare perché ovviamente va sulla base quindi lo mettiamo così perfetto abbiamo la piattaforma vicino alla nostra base niente mele vai così questo ci permetterà appunto di depositare i pal e di farli lavorare nella nostra base con F possiamo appunto andare a depositare per esempio la nostra cattiva ok possiamo andarla a raccogliere anzi guarda sta facendo già da sola perché cattiva ovviamente può raccogliere anche i minerali vedete quindi ci sta estraendo automaticamente il materiale da quella pietra e una volta che l'avrà raccolto se non erro lo va a depositare specialmente se c'è una cassettina se non lo tiene nel suo deposito interno oppure lo lascia per terra quindi in questo caso converrebbe andare a creare delle cassette quindi una bella cassa allora per poterlo fare ovviamente andiamo su ESC tecnologia e dobbiamo andarla a creare che è il forziere di legno ovviamente metteremo tutti i banchi da riparazione vicino alla struttura però dobbiamo fare anche i letti il letto mediocre per noi questo è kit di riparazione per riparare le strutture se vengono rotte arco freccia per alcune tipologie di animalacci brutti che scappano abbiamo altri punticini possiamo andare a prenderci intanto la mangiatoia per i nostri pal e lo scuda anche se possiamo fare il campo di bacche ok comunque ho veramente tanti punti perché ovviamente per costruire mi è salito quindi fattoria di allevamento va benissimo potremmo anche andare a fare altri tipologi di costruzione banco da riparazione per riparare gli oggetti gli strumenti lancio di pietra non ci interessa per ora magari gli abiti di stoffa li cominciamo a sbloccare perfetto allora come vedete continua da solo imperterrito lascia i materiali lì perché non ha una cassa se gli andiamo a fare la cassa lui porterà tutto all'interno ok allora B costruzione stoccaggio forziere di legno le risorse sono insufficienti vado a fare un attimo di legna allora forziere di legno andiamo a farne uno me lo metterei proprio qua dietro tra la base e la struttura da cui mettiamo i nostri pall ok possiamo edificare il bello è che dovrebbe venire pure il gatto infatti il gatto adesso prende punti esperienza eccolo perché anche lui ha partecipato alla costruzione quindi molto importante anche questo in realtà metterei pure qualche cassetta di più sinceramente guardate è andato a raccogliere la pietra che ha tornato per terra e l'andate a mettere nella cassettina quindi niente male va a depositare tutto lì all'interno facciamone un'altra per sicurezza così la roba non gli manca le cassettine non gli mancano la mettiamo precisamente proprio qua a fianco tanto che ce frega l'importante è che sono tutte belle vicine ok e così lui tutti i viaggi che si fa e le raccolte che continua a fare le porta nelle cassette ovviamente fino a che c'ha spazio allora possiamo fare i potenziamenti delle base potenziamola potenziandola aumentiamo il numero massimo di palla attivi nella base quindi io posso per esempio prendere un altro cattiva e dirgli vai al lavoro e quindi ne abbiamo due la cosa interessante io posso pure dire a questi gattini di fare una determinata azione ok infatti sarebbe il caso di cattonarne qualcun altro anche per portarmela appresso allora vai così mettiamo asta cattiva anche perché se no mi si riduce l'inventario allunga andare ok e proviamo a prenderlo 96% probabilità è un 100% in pratica lo prendiamo e basta ok vai così abbiamo un cattiva nuovo appresso niente male intanto questi come vedete lavorano da soli vi ricordo comunque ripeto che se ci andate addosso a sti cosini e fate solleva potete dirgli cosa devono fare adesso stanno raccogliendo a random ma io potrei dirgli guarda tu devi incentrarti sulla raccolta della pietra o tu devi incentrarti sulla raccolta del legno e cattiva ripeto è quella più adatta perché fa tante cose diverse allora andiamo a costruire altre strutture importanti ovviamente il nostro letto mediocre ugualmente ci vuole legna che abbiamo già consumato a bestia però loro ne dovrebbero portate qualcuna qua perché ho visto che raccoglievano qualcosa ecco qua due di legna ce le portiamo nell'inventario quindi dovremmo averne sufficienza io un po' se l'hanno messo pure nell'altra cassa no solo lì ok quindi recupero un paio di materiali i semi di bacca fantastico guardare quante pietra hanno lasciato qua per terra che ci appesantisca una bestia in realtà eliminerei un altro di questi per prendermelo dovrei avere la sfera palla speriamo di sì perfetto vai preso intanto picconiamo cioè diamo a sciare questo albero abbiamo quella di catturare 5 lambal di missione però per adesso la zompiamo perché è importante fare tutto il resto senza letto saranno scontenti ovviamente dobbiamo fare i letti a loro anche quindi facciamo una cosa vediamo un po' se possiamo fare già i letti a loro sì per ora ne abbiamo due quindi a sto punto li metterei qui a fianco proprio a fianco dove abitano loro non è possibile edificare qui è troppo vicino alle due altre strutture ok quindi devo allontanarmi un pochino perfetto ne faccio altri anzi ne facciamo pure qualcuno di più perché tanto arriveranno altri pall piano piano due e tre per sicurezza le risorse non sono sufficienti le pare e stanno costruendo e loro costruendo a questo punto dovrebbero anche prendere esperienza guardate si stanno a costruire da soli guarda che è top e ci danno esperienza pure a noi perfetto quindi hanno due letti per loro e già tanta roba allora proseguiamo noi dobbiamo fare il letto per noi però di nuova mancanza di legno andiamo a fare altro legno e finalmente ci possiamo fare il nostro lettino adesso la problematica adesso qui è che devo per forza prima aprire ok svolgono attività e si fermano quando ne perdono troppi ok crea strutture come le terme per farli tornare a lavorare prima lol allora giriamo questo lettino ce lo mettiamo qua centrale così siamo difesi anche dalle pareti laterali ok costruiamo e così abbiamo il nostro letto per la notte molto importante perché ovviamente come per tutti i giochi survivor ci fa passare la notte istantaneamente ci vuole un pochino a costruirla anche perché gli altri omini non sono entrati nella casa stanno fuori e quindi non possono fare così ne ole vai così missione compiuta hai sbloccato l'upgrade per il box pal quindi andiamo immediatamente a sbloccarlo così proseguiamo anche nella crescita della nostra base possiamo mettere magari un altro cattiva all'interno della nostra base potenzia non costruisci potenzia eccolo qua e così possiamo mettere un altro cattivo eccolo qui allora vai per ora mettiamo solo cattiva poi cambieremo prenderemo elementi diversi che fanno produzioni diverse per esempio come vi ho detto prima ho sbloccato la possibilità di fare l'allevamento perché ci servirà eccolo qua fattoria dallevamento ovviamente ci serve come al solito un bordello di legna che ci manca allora ragazzi ogni tanto si possono trovare pure questi tizi tipo mendicante mercanti itinerante che con dei soldi vi compra oppure potete vendere gli oggetti quindi potete comprare le spalle per esempio con il denaro abbiamo 149 per adesso quindi non abbiamo tantissimo e si possono prendere i semi il grano la lana il latte le ossa e anche gli organi di alcuni di questi palle che servono per alcune costruzioni allora non so se effettivamente ho abbastanza prodotti per costruire quell'oggetto ancora no perché mi si è rotta l'ascia la dovrei riparare però non ho fatto ancora il tavolo delle riparazioni allora non ci sono ancora possibilità di risalire ho messo che uno dei pall uno di sti gattini va a raccogliere effettivamente la legna però non c'è andato perché si è messo a facco gli altri e non so per quale arcano motivo forse perché seguono il massimo dell'area della base allora vado a provare a tirarlo addosso all'albero e a vedere cosa fa ok è un attimo un pallato e no si è messo a raccogliere le bacche no si è arrabbiato la sensibilità fissa all'albero è riuscita però ovviamente non ci sta andando e non capisco perché allora potrei provare a fare una cosa più importante lì c'è l'altro albero che è nato là dentro nell'area forse segue il massimo dell'area della base forse è tipo upgrade guardate quanta pietra hanno raccolto e lasciato qua ecco mi sento pesante adesso prima che arrivo alla cassa ci metto un'ora allora finalmente posso fare sta benedetta fattoria io direi che la metto più centrale vicino a tutto ok sempre se c'entra poi eh non è detto che c'entri per colpa di quella struttura che ho fatto lì poi oh ho visto che c'entrava per un attimo andiamo un po' più indietro più di qua eccola l'ho vista ho visto il punto vai ok così è sempre molto vicina premiamo per edificare stanno edificando anche i miei cattiva mi stanno dando una mano ci vuole un pochino per edificarlo quasi un minuto per costruirlo ammazza complimenti e questo dovrebbe servire per allevare i nostri pal in pratica rimanendo qua dovrebbero prendere dei potenziamenti ovviamente dobbiamo creare dopo per far salire appunto il livello anche della struttura la mangiatoia per i pal e un altro letto di paia perché sono tre ovviamente questi sono quelli per livellare la nostra base adesso creiamo questo e poi mettiamo un cattiva qua dentro oppure una pecorella se ci riusciamo facciamo un piccolo change e la lasciamo qua ad allevare che dovrebbe dare pure la loro produzione e raccogliere tutta la roba che creano ok quindi la lana per fare magari anche i nostri vestiti e fare gli altri potenziamenti guardate la costruzione quanto è lenta di questa struttura pazzesco ok ovviamente possiamo anche fare un'altra cosa che non abbiamo detto che è a parte del tutorial che è quella di uscire con l'esc andare direttamente in realtà no non mi ricordo qual è il pulsante ce lo dice là col tab ok e se non erro abbiamo potenziastatistiche ovviamente le statistiche iniziali importanti sono il peso totale ok e la resistenza quindi la stamina come vogliamo chiamarla perfetto e in questa maniera avremo più energia per le nostre farm e avremo lo stesso più robina da portare appresso anche perché tra poco cambieremo pure i palli che utilizzeremo allora ragazzi direi che per oggi può bastare così il mio personaggio orrendo veramente non si può vedere però va bene per la serie ovviamente questo è tutto l'inizio una bella base iniziale i cattiva che lavorano alla grande l'allevamento giustamente un altro letto da fare là le cassettine nella zona giusta e poi andremo avanti e troveremo anche gli altri palli per farvi vedere un po' come funziona io direi che ci fermiamo qui arriviamo a 1000 like condividete il video schiedete al canale se nuovi lasciate un hashtag palworld per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video se lo volete grazie a tutti